Allora, l'addestramento all'aggressività è un addestramento che va trattato con grande cautela. Entro un certo range, è un qualcosa che si può proporre tranquillamente in classe, eserciti molto semplici, per esempio in cui devi colpire un colpitore, qualcuno si trattiene, o devi continuare a colpire mentre vieni disturbato e vieni a tua volta colpito. Sono eserciti molto semplici, o per esempio devi superare una barriera di colpitori, o persone che cercano di trattenerti. Un altro tipo di aggressività, proprio lo switch, che porta la persona a poter, diciamo, non semplicemente allontanarsi, allontanare un aggressorio a causa di dolore, ma proprio romperlo fisicamente o mentalmente, è un discorso un pochettino più complesso, che non sempre è utile ai primi livelli, in verità quasi mai, se parliamo di principianti e di civili. Perché? Perché la necessità di un civile è quello di portare la pelle a casa, quindi avere un'azione determinata, avere un'azione istitutiva, quindi senza dover coinvolgere l'aspetto emozionale, dopodiché andarsene via. Non c'è necessità di attivare altri processi. Un soldato, o una persona che ha malzioni particolari, per il suo mestiere, o perché ha fatto un percorso all'interno di quello che è la maga, o l'arte emozionale che segue, il sistema di combattimento che segue, o ha bisogno di un altro tipo di livello, esistono altri tipi di allenamento, che come sempre includono l'aspetto della progressione, della finalità, e grande tatto, rispetto di quella che è la mentalità della persona. Perché di fatto andare oltre a una certa soglia significa stirare molto quella che è la nostra zona di comfort e quando si fa una cosa del genere è facile a combattere.